Nel franquismo sono stati represi, in catalogno la lingua era prohibita, la scuola era catolica espanola, in quel momento voleva un cambiamento, hasta creare la primera llei d'ensegnanza, al 1905 l'assistencia era obligatoria, per tutti i nens, di 13-12 anni, i professori non potevano innovare. Nel franquismo l'escola era memoria verbal, la dottrina era religiosa, un libro enxiclopedi, la competitività riñava, basta una sorcezione, per fare un cambiamento fuori dentro di te. Nel franquismo sono stati, per la formazione domenica, Nel franquismo sono stati, principi descritti, la comunità è scuola, orientati a un palo obiettivo, l'obiettivo dell'educazione integrale, per l'esperienza critica e la sociabilità. La religione era parte del programma, era la cosa importante, che non sia il dolore fatto, parlando del ranquismo, il rapporto con la famiglia, la psicologia era l'indispensabile. El principi de pedagogia activa, defensava la libertà de l'alumne, amb la col·locació i els diversos tipus d'expressió, el treball en grup i les ofidors escolars. E' educatia de domini, diventa primor, e' diversità, l'economia regista e l'uïstico, puxem cambiamenta politico, destaca l'imperacit, per acceptar la metodologia anteriormente creada. La coordinació escolar, defensa una escola catalana, i una remuneració digna, amb pedagogia activa, basada en l'activitat del nen, adaptats al medi ambient. Per aquest motiu hem d'aprendre del passat.